Con il consigliere Massimo Ripevi sono passati i mesi, siamo ancora qui a parlare di aeroporto, un aeroporto a questo punto che non decolla. Ma questa questione Fratelli d'Italia l'ha trattata sin dal principio con grande vigore e forza perché è l'argomento degli argomenti, la cosa più importante in assoluto, perché è l'infrastruttura che farebbe ripartire la nostra città. Qua il guaio serio è che ci stanno accoppando tutti, per usare un termine plastico e semplice. Non solo non siamo diventati aeroporto strategico, ma siamo diventati interesse nazionale con il plauso di tutti i politici che probabilmente non si sono letti il decreto oppure sono in mala fede, perché di questo si tratta. Noi abbiamo fatto battaglie con gli strumenti che abbiamo, abbiamo fatto mozione in consiglio che puntualmente il PD, nonostante fosse una mozione perfettamente in linea con lo sviluppo dell'aeroporto per farlo diventare strategico e fare diventare una società, la liquidazione della Sogas e comunque una NUCO che potesse servire a sviluppare l'aeroporto ce l'hanno bocciata. Stiamo facendo una raccolta firme per fare diventare l'aeroporto strategico e nulla si sta muovendo. Noi abbiamo i nostri politici nazionali che non hanno fatto assolutamente niente. Questa è una cosa scandalosa, un atto, dico uno. L'ultima cosa che fa vedere qual è la strategia nazionale ma anche regionale per distruggere Reggio Calabria è che ho riuscito il bando dell'ENAC dove si dà priorità alle società che gestiranno insieme l'aeroporto di Reggio e di Crotone. Questa è una trappola che hanno fatto artatamente per fregare Reggio Calabria ma ovviamente a Crotone c'è Dorina Bianchi che fa l'opera di sottosegretario ma lavora per il territorio. Noi qua abbiamo politici nazionali che praticamente non fanno niente quindi noi in questa conferenza stampa chiederemo parlando di questi temi la dimissione di tutti i parlamentari nazionali per manifesta incapacità o mancanza di volontà a fare qualcosa per la nostra città e per il nostro aeroporto che è l'infrastruttura più importante per poter rilanciare la nostra città. Questa è una cosa scandalosa. Noi chiediamo la dimissione di tutti loro perché questa città non ne può più. Che cosa fanno a Roma? Che cosa stanno a fare a Roma? Che cosa stanno producendo? Noi chiederemo anche tutti gli atti che loro hanno prodotto per la nostra città o che non hanno prodotto per la nostra città. Siamo stanchi, ovviamente noi non ci stiamo a questa cosa quindi l'appello è alla cittadinanza a firmare la petizione e a lottare con noi per salvare l'infrastruttura più importante che deve essere assolutamente e strategicamente collegata a Messina perché noi senza Messina non possiamo vivere e Messina senza Reggio Calabria non può vivere. Di fatto quindi la notizia di questi giorni di un mancato arrivo di Ryanair a Reggio Calabria è solo la punta dell'iceberg. Il problema è molto più grave, molto più in fondo. Bene, il discorso di Ryanair è una cosa importante ma è infinitamente più piccola rispetto alla strategia globale, nazionale e regionale di distruggere Reggio Calabria. Reggio Calabria è un sintomo di una malattia gravissima, un sintomo grave di una malattia molto più grave che fa capire che direggio Calabria non è frega niente a nessuno e i nostri politici che sono là per fare questo hanno completamente abbandonato la città per cui noi chiediamo assolutamente le dimissioni. Se ne devono andare a casa per manifesta incapacità, per mancanza di amore per la nostra città perché non hanno prodotto niente. Che cosa hanno prodotto per i nostri territori? Niente. Un'altra battaglia che stavate portando avanti era anche quella riguardante Sogas. A che punto siamo da questo punto di vista? Ma noi sin dall'inizio abbiamo detto che Sogas deve essere liquidata, deve andare in liquidazione. Quando lo dicevamo noi, gli scienziati del PD, grandi e piccoli, hanno detto che noi non avevamo detto una sciocchezza. Oggi lo dice la procura, dovrebbero ravvedersi e mettersi una scritta al collo con un aggettivo qualificativo dell'azione che hanno fatto.